Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi prima di cominciare con il tutorial Riconsiglio di iscrivervi al canale E mettiamo la campanella ragazzi di lasciare un like Se questo video vi è stato utilissimo Oggi risolveremo un piccolo errore Un errore del driver della scheda video Molto semplice Perché qualche giorno fa ho avuto un problemino Riguardo all'apertura di Call of Duty Warzone 2.0 Adesso vi faccio vedere Ok ragazzi adesso sto per aprire Call of Duty Warzone 2.0 Un attimo che si avvia E mi esce questo errore Già mi è uscito questo errore qualche giorno fa Ed è molto semplice per risolverlo Qui vi dice solamente di aggiornare i driver della vostra scheda video Niente di che Niente di che Quindi per risolvere questo errore riguardo al driver della scheda video Molto semplice Su GeForce Experience Quindi andiamo un attimo su driver Cerca aggiornamenti Se non dovete fare nessun aggiornamento Ragazzi disinstallate GeForce Experience E andiamo a reinstallarlo di nuovo sul sito ufficiale Link in descrizione Scegliete il vostro tipo di prodotto Serie di prodotto E sistema operativo Fate una bella ricerca E fate un download del vostro driver da scaricare Invece per quelli di AMD Stessa cosa Stesso procedimento Se avete un processore con grafica Scaricate quello Se avete una scheda video AMD Scaricate sempre questa serie di prodotto Questa qui Fate invia E poi fate una ricerca E fate il download E vi garantisco che subito dopo Warzone 2.0 Si aprirà Risolvendo così I problemi Dei driver della scheda video Quindi nuovi download Nuovi driver più aggiornati Ora non ci resta che avviare Warzone 2.0 Come ho fatto Pochi giorni fa Risolvendo questo errore E aspettiamo Ed eccolo qua Senza quell'errore Della scheda video E il gioco funziona Funziona Quindi spero tanto Di esservi stato D'aiuto ragazzi Sta facendo Un checking Per gli aggiornamenti Ovviamente Ogni volta che lo apriamo Vi cerco sempre I nuovi aggiornamenti Poi dobbiamo uscire Rientrare E' un casino Quindi grazie a tutti Per questa visione ragazzi Se avete problemi Noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao Ciao Grazie a tutti